Le nostre vite sono fatte di punti di svolta. Istanti che cambiano le carte in tavola. Lungo il percorso, incontrare gli altri diventa una inevitabile possibilità. E questi sono i momenti più veri, irripetibili, originali. Si dice che qualcosa ci riguarda quando ci sta veramente a cuore. Ma in francese il verbo regarder significa anche guardarsi negli occhi. Attraverso gli occhi entriamo in contatto, comunichiamo. Così nasce quell'attrazione unica che ci rende umani. Il nostro lavoro ci regala occasioni di incontro importanti. Per conoscere le persone che ogni giorno si impegnano nelle aziende. Il nostro obiettivo è dare loro la possibilità di raccontarsi. E guardare negli occhi il mondo intero. Werter Making your brand attractive Il nostro obiettivo è un obiettivo è un obiettivo. Il nostro obiettivo è un obiettivo. Il nostro obiettivo è un obiettivo è un obiettivo.